ci sono piccoli gesti come usare la luce o anche accendere il gas che fanno parte della nostra vita quotidiana ma bolletti o contratti a volte possono confonderti le idee per sciogliere i tuoi dubbi l'autorità per l'energia elettrica e il gas ti informa e ti aiuta attraverso il numero verde per il consumatore 800 166 654 la linea diretta che tutela i tuoi diritti nel mondo dell'energia chiama anche per conoscere i bonus elettrico e gas grazie